Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Al grande fratello non ci sono solo tensioni di giorno, ma anche di notte. Loro fanno baccano e l'inquilina si arrabbia perché non riesce a dormire. Ecco di chi stiamo parlando.La tensione che si sta respirando in questi ultimi giorni al grande fratello è veramente tagliente, gli animi degli inquilini si accendono per poco, segno che la stanchezza si sta facendo sentire. Sono tutti molto tesi, per questo sbottano e litigano per la più piccola miccia che si accende. Tra i tanti problemi a cui abbiamo assistito, c'è stato un momento, criticato su social, nel quale l'inquilina non riesce a dormire per gli schiamazzi e lei furiosa riprende i suoi colleghi geffini. Svegliamo il nome della protagonista della storia e di cosa hanno scritto su social. Non può dormire e si arrabbia. Mancano poche ore alla diretta della puntata del 30 dicembre e sicuramente Alfonso Signorini non parlerà solo dell'inquilina che si è arrabbiata di cui vi parleremo a breve, ma anche di un altro geffino. Anche lui probabilmente non sta dormendo, ma i motivi sono altri, in quanto si è reso conto di aver fatto una geff dopo l'altra. Imprimisco il pugno tirato contro il muro a Natale, secondo, quelle frasi infelici rivolte a Beatrice Luzzi il giorno seguente. La ciliegina sulla torta però l'ha messa con quelle irripetibili parole che ha rivolto verso i gay che hanno indignato il web. Per tutti questi fatti, secondo l'esperto del gossip, Amedeo Venza, Giuseppe Garibaldi sarebbe pronto a dire addio al grande fratello, Garibaldi in lacrime. Nella notte sarebbe entrato nel confessionale esprimendo la volontà di uscire perché teme un richiamo da parte di Alfonso nella prossima puntata riguardo il gesto violento, ha tirato un pugno al muro, la notte di Natale. Per capire se realmente il geffino sarà squalificato o se lascerà comunque di sua spontanea volontà la casa, non ci resta che attendere la prossima diretta. Tornando a noi, Fiordaliso si è lasciata andare ad uno sfogo rivolto al gruppo con cui condivide la casa da diverso tempo, in quanto per il brusio di fondo, lei non ha potuto dormire e questo l'ha portata a vivere una situazione di disagio. Su social però, tutta questa storia non l'hanno presa benissimo, in quanto i fan di Beatrice Luzzi hanno riportato a galla un fatto simile successo tempo fa, quando a lamentarsi questa volta era l'ex attrice di Vivere. Ecco che cosa ha scritto un utente in merito, la dinosaura sta sbottando perché non l'hanno lasciata dormire. Vediamo cosa succede. Quando sbotto Beatrice le dissero che doveva smetterla, che era pesante. Chissà se anche questo tema sarà trattato da Alfonso e Cesara. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.